Antonio Calabrese, neo-capitano del Spinete, quest'anno sei stato promosso. Per te una responsabilità in più? Sì, sono passato di grado e voglio ringraziare il presidente e il mister che mi hanno dato questa nuova carica. Per me è un enorme piacere. Io sono autoctono, sono del posto, sono tanti anni che gioco qua. Purtroppo è andato via il capitano che per tanti anni è stato il capitano di questa squadra e per motivi suoi, non so. E sono, come dicevo, contento di essere stato promosso al nuovo capitano del Spinete. Facciamo un attimo un passo indietro, Antonio. L'anno scorso il campionato è veramente molto complicato, eravate partiti bene e poi dopo Natale si è bloccato qualcosa. Sì, purtroppo l'anno scorso, come dicevi tu, siamo partiti benino. Poi verso novembre-dicembre abbiamo perso qualche pedina piuttosto importante. Nella finestra di mercato di dicembre non siamo riusciti a rimpiazzare e il girone-ritorno abbiamo fatto un po' fatica. Infatti ci siamo salvati la penultima giornata di campionato. Speriamo che quest'anno entrara un pochetto diversamente. Quest'anno l'obiettivo è ovviamente fare meglio, vi siete attrezzati bene, avete fatto una buona squadra, avete dato anche qualche elemento di esperienza, avete dato Mustafa Touré, qualche elemento dal Boiano. Qualcuno arriverà oppure state bene così? Sì, come dicevi tu, quest'anno ci siamo rinforzati. È arrivato Touré, Diallo, pure qualche under, come dicevi tu, che l'anno scorso ha giocato a Boiano e diciamo che credo che siamo bene così. Sì, finché il mercato è aperto non lo so la società se riuscirà a fare qualche altro colpo, però credo che la rosa più o meno sarà questa, diciamo. Dalle due previsioni sarà un camminato 24-25 come l'anno passato con tante squadre, oppure vedi qualcuna un po' più avanti, c'è Baranello che comunque è una squadra esperta, Trivento? Sì, credo che ci saranno 3-4 squadre che si sono, credo, attrezzate, come dicevi tu. Baranello vedo che ha fatto grandi acquisti, Guglielmi, Sandoro, Ricciardi, scusa. Il Riccia credo pure che farà un buon camminato e poi ci saranno sempre quelle campane, zone di casetta, l'Ife, l'Ufe Presenzano, che credo che allestiranno comunque una buona squadra. Poi il resto lo dirà il campo, voglio dire. L'ultima cosa, voi siete qua come una famiglia, siete un bel gruppo, vi trovate anche dopo le partite, la gente vi segue, il paese tiene tutto vicino alla squadra. Sì, sì, il bello di queste piccole realtà è proprio quello, qui al primo posto viene il gruppo e se c'è un bel gruppo, secondo me riesci pure a costruire qualcosa di buono e a fare un grande campionato. Come dicevi tu, noi dopo l'allenamento, dopo le partite, comunque ci fermiamo, fermiamo un pochetto in più, una mezz'oretta per stare insieme, perché secondo me se riesci a fare un grande gruppo hai una marcia in più.